Ciao, sono le tre, tre e mezza, non lo so, e sto andando a montare di pomeriggio strano perché solitamente vado al mattino, ma stamattina sono andata a Milano su un set a lavorare, a fare un lavoro molto carino, e che mi stanno usando tutte? Quindi adesso mi preparo e il mio outfit in realtà oggi è molto triste, triste, cioè è scuro perché mi è arrivato il ciclo dopo due mesi, quindi per tanti giorni mi sono vestita di scuro perché non sapevo mai quando questo arrivava, è arrivato, e tra l'altro quando è che arriva? Quando giustamente il weekend ho la gara, dopo domani sono in gara che pantaloni bianchi ciclo, e vai cambiamoci Partiamo con i pantaloni, vado di calzamaglia perché i pantaloni termici sono da lavare e pantaloni blu che ho indossato anche ieri, primo strato di gambe, secondo strato più magliatermi Cinturina Prima paio di calze! Ma in realtà è il terzo, perché avendo la calzamaglia sotto, sono tre Ecco il terzo paio Che probabilmente queste toglierò prima di mettere gli stivali Anche perché sono un po' ingombranti E dato che gli stivali sono su misura Ecco, queste già sono molto pesanti Più altre due paia Un po' cicciote Vado di pile Pile molto comodo per montare L'avevo comprato per andare in montagna, tipo al Cisalfa, 5 euro Ma si è rivelate la cosa più comoda per montare d'inverno Andiamo di felpa Questa felpa della casca è mega pesante Poi oggi devo anche saltare con due cavalli, quindi alla certa inizierò a sudare Poi oggi è giornata che non devo fare foto di outfit Quindi tranquillamente mi posso vestire come caspita mi pare Questa maglietta sotto, cioè questo paio sotto non mi piace Questa è l'olio Un po' dentro Infine, prima del piumino che però ho giù in sala Metto questo piumino smanicato Perché dato che ne devo fare tre Almeno non faccio togli, metti, togli, metti, togli, metti E rimango solo col piumino smanicato In modo che non prendo freddo dove non devo prendere freddo Dato che sono molto sensibile in questi giorni Dato che in due mesi ho avuto il covid Ho avuto ventigine di influenza Ho avuto il virus intestinale Ora ho la stomatite Insomma, meno prendo freddo Meglio è outfit Poi ovviamente ho gli stivali Quelli che arrivano fino a qua col pelo dentro E poi ho un piumino normalissimo Vado a montare Bacio A presto